Raggiunge i suoi 45 anni di storia a Cartoceto DOP il Festival, la mostra a mercato dell'olio e dell'oliva, che negli ultimi anni ha intrapreso un nuovo percorso articolato in eunogastronomia, arte, storia, tradizioni, natura e musica. Torna, dopo il successo dello scorso anno, l'appuntamento dedicato all'Oro Verde delle Marche, nelle date del 6 e 13 novembre, all'interno della sede della Coffcommercio di Pesaro, questa mattina è stato presentato il ricco calendario di eventi. Si partirà nella prima giornata con l'apertura del festival alle ore 9, mentre nel pomeriggio il taglio del nastro seguito dall'inno di mameli del corpo bandistico di Cartoceto alle ore 15 e 30. Come sempre, Roccaforte della manifestazione saranno i produttori in piazza Garibaldi, quindi ritroveremo i nostri produttori dell'olio d'op e non solo, che ci faranno anche degustare l'olio d'op cartoceto grazie allo stand di Food Brand Market, che in collaborazione con il consorzio dell'olio d'op cartoceto ci farà riconoscere l'olio d'op cartoceto certificato. Ci sarà anche Piazzetta Guerrazzi, che quest'anno insieme all'Ais Pesaro ci farà degustare del buon vino, e non solo, ci saranno formaggi e altre prelibatezze dei nostri territori. Ovviamente riconfermiamo gli spettacoli a teatro nelle due domeniche, così come i sentieri verdi e quindi le passeggiate per i nostri territori. Spazio anche quindi alla musica, ci saranno le marching band che aglietteranno tutte e due le domeniche in giro per il centro storico. Ci sarà Piazza 20 Settembre con i clown e questo spazio dedicato ai più giovani, ai piccoli e con i bambini dell'infanzia dell'Istituto Marco Polo e anche ai più adulti. Ci sarà quindi musica e spettacoli anche in Piazzetta Guerrazzi. E poi visite ai frantoi, punti ristoro e collaborazioni con cinque scuole del territorio che andranno alla scoperta di tutti quegli aspetti legati all'olio, tra preparazione di piatti, curiosità, mostre e fotografie. L'evento, organizzato da Comune e Proloco, per questa edizione si avvale anche di una piacevole novità. Novità, il profumo all'olio DOP Cartoceto. L'olio non è più solo sotto il profilo enogastronomico, ma anche sotto un profilo cosmetico. E quindi abbiamo fatto creare questo profumo all'olio, una curiosità che ci piace sviluppare. Lo troverete a Cartoceto dopo il festival, ma non solo, anche in alcuni nostri locali di Lucrezia e del nostro territorio. Riconfermato anche il videomapping sul Palazzo del Popolo, che questa volta sarà dedicato al soprano Renata Tebaldi, a cento anni dalla sua nascita. Il programma completo dell'evento è disponibile sulle pagine social Facebook ed Instagram di Cartoceto Turismo. Vogliamo che questo festival sia la declinazione, la tradizione di un modello socio-economico di sviluppo che abbiamo in testa per il nostro borgo storico. A partire da quel tipo di eccellenza agroalimentare, ma che sappia valorizzare, oltre che tutelare, tutto il nostro patrimonio culturale rurale, assieme a tutti gli altri asset di interesse e di attrazione turistica, affinché si possa contrastare da un lato purtroppo il fenomeno di spopolamento, affinché le nuove generazioni siano di nuovo attratte nel investire, nel risiedere all'interno dei centri storici, perché al di là di quelle che sono le iniziative spot di promozione delle eccellenze, si possano costruire dei modelli di sviluppo socio, ma anche economico, sostenibili, basate per l'appunto sulla valorizzazione di tutto il patrimonio culturale, che fortunatamente anche Cartoceto e tutto il territorio sotteso all'areale della DOV Cartoceto possono vantare.